Parliamo del criterio di Chevenet Chevenet, non lo so come si cononce Allora, una studentessa compie 50 misure del calore sviluppato in una certa reazione e ottiene un calore medio di 4.8 kcal a cui associa una sigma di 0.4 kcal che è la direzione standard quindi cosa ci immaginiamo noi che le misure avendo ridotto al minimo gli errori sistematici e avendo soltanto rumori casuali si distribuiscono così come una gaussiana non centrata in 0 ma centrata nel nostro q medio che dovrebbe essere il valore medio appunto di 4.8 kcal e questa è una linea bruttissima e cosa abbiamo? Abbiamo la nostra sigma questa è sigma e questa è sigma ok, graficamente dove è che la mettiamo? dovrebbe essere messa nel punto in cui la derivata seconda del grafico si annulla quindi la derivata seconda di un grafico è la sua concavità dovrebbe essere il punto, immaginiamo che sia in queste parti qua in cui passa da essere una funzione cos'ha a essere una funzione cos'ha però è tutto molto indicativo per capire assumendo che le sue misure sono governate da distribuzione normale trovate la probabilità che una misura differisca da q medio di 0.8 kcal ok, quindi domanda se abbiamo invece una cosa che la chiamo sigma sospetta differisce di 0.8 kcal non sto più a scriverlo qual è la probabilità di avere una misura del genere? quindi noi abbiamo tutte le nostre bellissime misure che si trovano qua in questo arco se ne trovassimo una che si trova al doppio della distanza perché questo qua è uguale a 2 sigma ok, 0.4 per 2 sono 2 sigma qual è la probabilità che questo avvenga? ok, com'è che si fa? in pratica a noi ci viene chiesto la probabilità fuori di 2 sigma di due deviazioni standard che questo succeda ma per simmetria fatemi cancellare un attimo queste cose ma per simmetria deve avere anche questo nella gaussiana noi possiamo dire un sacco di cose per geometria ossia che la probabilità al di fuori di 2 sigma è uguale a 1 meno la probabilità dentro 2 sigma cosa significa? significa che l'area a noi ci viene chiesto in pratica qua quest'area qui e quest'area qui ok, quindi la distanza tra Q e qua questa roba è 2 sigma a noi ci viene chiesto questo ma come possiamo calcolare noi quell'area? beh la cento un attimo che mi viene più facile disegnarla beh se noi viene chiesto questa parte qua sapendo che l'area del grafico è 1 perché la gaussiana è una curva non normalizzata e tutto il resto basta che noi prendiamo l'area totale e ci togliamo l'area qua dentro in questo modo sapremo l'area di queste due parti qua e poi se vuoi sapere l'area di una parte altro che appunto è simmetrica di nuovo basta che la la dimmezi quindi noi andiamo a cercarci dalla tabulato la probabilità dentro 2 sigma noi sappiamo che dentro 1 sigma è il 68.26% e se andiamo a vedere a 2 sigma io non ce l'ho perché ho una tabella che è fatta diversa ho una tabella che mi dice la probabilità da qua fino a 8 sigma quindi adesso per sapere anche questo devo un attimo raddoppiare però comunque il calcolo è molto breve perché il valore che trova la tabella 2 sigma è 0.4772 quindi io lo raddoppio quindi questa cosa qua quant'è che fa? fa 0.0456 che è il 4.56% la mettiamo a 4.5% ok poco poco probabile di solito quando si è sotto il 5% sono cose che possono capitare cioè molto molto raramente ma possono capitare se già fosse stata una probabilità del 0.45% avremmo detto ok no qua abbiamo sbagliato qualcosa abbiamo fatto mali calcoli abbiamo errori sistematici che abbiamo lasciati ma invece ci sta poi ci chiedono quante delle 50 misure la studentessa dovrebbe aspettarsi che riferisco da Q medio di 0.8 calorie o più quindi sapendo la probabilità sapendo il numero se io faccio 50 per 4.5% qua ottengo è in pratica diviso 2 diviso sì ok quindi tipo 2.3% non è 1% ma sono il numero di misure ok 2.3% quindi su 50 misure io devo aspettarmi che un paio stiano e entra 2 sigma quindi se tante misure sono qua se ne faccio 50 ci sta che una sia qui una sia qua e poi c'è ancora un virgolo 3 che significa che è un pochino più di 2 la probabilità domanda questo dato qua queste due misure che in realtà la NB61 sono da cancellarsi sono da ritenersi invalide ma il teorema di 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 Chouvenet dice che se questo numero è minore di un mezzo allora si può regentare però in questo caso qua non è verificato perché 2.3 è maggiore 0.5 quindi no puoi puoi start ne puoi essere tranquilla ci sta la cosa che gli scienziati spesso dicono vabbè magari è un esperimento importante noi non vogliamo un numero così lo cambiamo può essere un terzo può essere un quarto può essere due terzi dipende un po' da da che tipo di esperimento ovviamente da una parte si tendono ad accettare valori sempre più in là dall'altra invece magari si tendono a cancellare evidenze scientifiche importanti perché è successo diverse volte che tu ti immaginavi una bella curva così dalla teoria la buttiamo di classica e cosa succede invece magari ottieni una curva che cosa e dice eh vabbè ma sono errori statistici però magari invece se proprio se ne togli tante magari cambi il significato fisico cioè non so la reazione di corpo né la punta così poi avete visto le cose che sono successe e domanda B se una delle misure è 0.6 kcal dovrebbe rigettarla ok cosa significa la facciamo in in verde perché in realtà è uguale cambiano soltanto i numeri ok poi li cancello tutti datemi un attimo di pausa allora prima ci è andata a deviazione standard direttamente adesso dovremmo essere in grado di calcolarlo a noi ok quindi come anche si fa ci danno invece una una q anche lei ha chiamato sus che è 6 kcal quindi quant'è che dista dal valore medio il valore medio è lui lei è più grande quindi 6 meno 4.8 uguale 1.8 2 questa è la distanza tra i due ma se mi hai detto che questo qua è la nostra deviazione standard sigma a quante sigma devo arrivare beh se io faccio questa cosa qua per 3 0.4 per 3 ottengo esattamente lui quindi la nostra sigma sus è 3 ok ok si vabbè è 0.12 quindi è 3 volte la sequenziale quindi qual'è la probabilità fuori 3 sigma per quello che ho detto prima è 1 meno la probabilità dentro 3 sigma quindi datemi da tabulato 1 meno 0.49 8 7 questa cosa qua fa 0.13 e questo si che è minore di un mezzo non è normale avere una misura 3 sigma qua di segno non lo fa vedere ma come avere una misura qua in realtà quindi non è normale e quindi si è da rigettare cose interessanti al CERN non è ben detto ok che in pratica la probabilità di 1 sigma è il 68% circa a 2 sigma vediamo che è brutto è circa il 94 punto in realtà è un 5 punto 4% a 3 sigma già è 99 punto vabbè fare due calcoli 16 quindi qua ci vuole un 7 e qua ci vuole un 4 per cento a 4 sigma lasciando le stesse cifre aveva un 99 punto 99 per cento di proietà eccetera eccetera se mi ricordo bene al CERN fanno i controlli a 7 sigma che significa che deve avere qualcosa che non torna un caso ogni 35 milioni milioni perché perché prima lo facevano a 5 sigma comunque sarà 99 non mi ricordo 9 9 diversi 9 per cento e si va bene si si va bene una ogni una ogni si prima qua una ogni 10.000 una ogni 100.000 sono particelle ci sta no perché stavo per annunciare la scoperta di una particella e invece oh è un caso di anomalia statistica con una probabilità infinitesima ma sai se tu invii 10 a 16 particelle in un tubo invece questa cosa qua aumenta perché appunto cosa che devi fare è il numero di particelle per la probabilità e poi per il teorema dividere 6 è minore di un mezzo e qua erano in un caso molto molto particolare e stavano per sbagliare tutto a causa di una di una roba del genere quindi ora siamo su questo